Saranno tre le giornate che dedicheremo al ricordo di questa pagina del Novecento, con degli appuntamenti che si svolgeranno il 25, il 26 e il 27 di gennaio. Ovviamente l'appuntamento più importante è il doppio incontro che organizzeremo con Marika Kaufmann Venezia, la compagna di Shlomo Venezia, che è stato il primo e principale testimone in Europa di quella che è stata l'esperienza del Sonderkommando di Auschwitz-Birkenau. Un'esperienza che rappresenta probabilmente il punto più buio dell'abisso concentrazionario nazista e rappresenta in questo momento un'occasione irripetibile per poter incontrare uno degli ultimi testimoni di quelle vicende. Incontreremo Marika Kaufmann Venezia presso la Mediateca Montanari lunedì 25 alle ore 17.30 e il giorno dopo alle ore 9 presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna insieme alle scuole cittadine e al Consiglio Comunale. Tre giorni per ricordare, tre giorni per non dimenticare una delle pagine più drammatiche del Novecento. Grazie. Grazie.